Occorre un'infusione di tranquillità e determinazione. Il Catania anche quest'anno dovrà sprintare in vista del traguardo finale. Dieci giornate alla fine ed un solo punto di vantaggio sulle terz'ultime. Una situazione sicuramente non facile, ma non drammatica. I rossazzuri devono principalmente guarire dal mal di trasferta, vero tallone d'Achille della squadra etnea. In casa le cose vanno meglio e devono continuare ad andare bene, anche perché domenica al Massimino arriva la Sampdoria, inaspettatamente indischiata nella lotta per non retrocedere. Quindi contro i blu cerchiati sarà scontro salvezza. Torna a disposizione a Augustin. Simeone spera anche nel recupero di Capuano, Biagianti, Bellusci, Izco e Martigno. Oggi ripresa a Torre del Grifo. La consolazione è che le partite non si giocano tutte in trasferta e che dopo l'ennesima batosta esterna c'è il ritorno al Massimino dove il Catania finora, nonostante una presenza di pubblico non all'altezza delle stagioni scorse, ha mantenuto un ruolino di marcia deciso. Sette successi gli ultimi due consecutivi, quattro pari e tre sconfitte con Juve, Inter e Milan. Numeri che incoraggiano tanto quanto deprimono le dieci sconfitte accumulate in trasferta contro nessuna vittoria. Al di là dei numeri contano gli uomini e la società dopo il K.O. di Firenze ha subito fatto leva sull'orgoglio dei giocatori che tanto dovrà servire in questo finale di campionato. L'orgoglio sarà un tasto su cui batterà in settimana anche Cavazin, neo allenatore della Samp. Per lui un contratto fino al termine della stagione. I blu cerchiati sono già in ritiro in vista del match di domenica per cui finora sono stati venduti circa 150 biglietti. Questa è una squadra che è pronta con il sistema di gioco che andremo a fare. Sarà pronta domenica fisicamente e tatticamente a essere competitiva e andare a fare il risultato a Catania.